i due più appoggiati partiti con Superfiamma che ha di dentro Gaia Gol poi Shining Legs, Queen Applause e gli altri due, prima piegata con Gaia Gol e Superfiamma le prese davanti a Stropping, questi i primi tre scurva un po' molto larga Superfiamma consente a Stropping di rimontare di dentro e passare in vantaggio davanti a Gaia Gol, Shining Legs Superfiamma e gli altri due a metà percorso Stropping ha assunto decisamente l'iniziativa, guida come vedete con due mezze di vantaggio nei confronti di Gaia Gol poi Shining Legs, Superfiamma e gli altri due che stentano a progredire Stropping sta facendo una sola a traguardo lontano sta staccando gli avversari con Gaia Gol richiesta per spingere Shining Legs mentre prova a venire dalle retrovie Queen Applause addirittura con Stropping il vantaggio che poi improvvisamente si pianta di dentro prova a recuperare il 6 di Shining Legs e si inizia con una grossissima sorpresa perché si risentono e fra il tempo il 4 di Stropping è quel motivo comunque vince Shining Legs avanti a Queen Applause e lo sfortunatissimo Stropping che arriva molto molto risentito sul traguardo rivediamo l'arrivo 6, 5 e 4 questo è la trio sfortunato Stropping sicuro vincitore già all'ingresso della letta d'arrivo poi sicuramente Stropping ha subito un brutto brutto incidente speriamo che sia soltanto una storta grazie a tutti